Siamo passati alla pallavolo dove Taranto ha perso per 3 a 2, ieri a Milano ancora al tie break ma un punto alla volta Taranto ha raggiunto la posizione al penultimo posto e adesso il 26 dicembre si giocherà al pallavolo alle 18 la sfida che può valere la salvezza contro Catania che è fanalino di coda. E chiudiamo con il calcio a 5 femminile con il bitonto.